bene ragazzi qualche aggiornamento perché ovviamente la clac cioè quelle due persone che non so se hanno visto e allora ma c'era un po di hype per l'uscita del un eventuale libro perché ero in contatto con questa trans europa e comunque allora due parole perché non l'ho scritto perché non l'ho cioè perché si è scritto da sé perché le parole creano dei guasti cioè le parole in realtà non denotano un cavo so di niente cioè se dico cavolo non è che appare un cavolo no quindi la letteratura per alcuni editori ma anche per me probabilmente è una questione di spazio cioè non deve essere la letteratura una questione di spazio o di vetrina o che dir si voglia di opportunità economica aziendale addirittura un editore mi scrisse guardi ci è piaciuto tantissimo il suo libro noi siamo una candidatrice che odia gli addirittura a pagamento però la casa di ci sono delle aziende e lì già ho detto aziende cioè case ci sono delle aziende cioè sono vuol dire determina un attributo abbastanza sono delle aziende uno potrebbe dire abbiamo a volte una logica aziendale questo va bene sono dell'azienda addirittura quindi secondo me sostanzialmente poi conviene scrivere riscrivere leggere cioè non si finisce più di scrivere e va bene così perché altrimenti è inutile è inutile perché converrebbe quindi continuare a scrivere scrivere o lascia il padre però non farsi mai scrivere e questa cadetrice poi mi chiese 400 euro per l'SBN la cifra è per quella 400 euro per le spese di segreteria e legate all'SBN che io ho appena pubblicato adesso su amazon gratis perché gli sbn sono gratis della società d'autori e mentre transeuropa mi permette mi mi appunto chiedeva appunto un acquisto di copie per le presentazioni dato che le presentazioni erano obbligatorie e le copie da acquistare dunque erano obbligatorie quindi era minimo 400 euro anche lì quindi cosa si può dire in realtà il mio lì ho pubblicato ora quello che dovesse sgrammetticature su amazon come corso il paradosso e cortocircuito questo titolo e adesso inizia il bello perché adesso continuerò a scrivere un'altra raccolta che comprende anche quella ma chissà non la manderò mai nessuno che si chiamerà fantastico di da stadiga da scalico del pop perché poi la maggior parte della ispirazione mia poetica proviene dalla musica ma anche dalla musica leggera è alex britti stefano rosso guccini de andrè non che siano minori per carità c'è gli si possono dei poeti assolutamente non minori secondo me rispetto a dante c'è meno eruditi forse ma quindi c'è allora san giovanni della croce allora non lo so c'è cosa si può dire di questi qui che dante l'abbiamo capito era un mistico categorico categoristico categorico aristotelico quindi c'è alex britti e meno aristotelico di dante comunque insomma alex britti usa bene le parole e i poeti di oggi contemporanei forse fanno tanto tritamento linguistico però però non so non significa usare bene le parole per esempio laura pugno mi è molto interessata tra i poeti contemporanei cioè mi sembra interessante ma poi ce ne sono tante anche andate su interno poesia trovate loro perché ci sono anche degli inediti tra l'altro su interno poesia una è questa martina dora martino fantastica anzi ve lo leggo subito se c'è oppure ci sono tanti poeti ci sono alcuni poeti a me a me simpatici poi può essere che invece quelli veramente bravi sono altri va bene però per dire martino marina dora martino a marina scusate marina dora martino dopo il crollo della casa ti ho alzato il vestito ho visto l'aurora che le tue gonnelle di spine mi siano d'ispirazione spina punta dal dito ma in pace col piacere mai un letto dove riporre cappio e ombra nei rovi la mia unica chiesa ho lasciato tutti gli averi che i tuoi chiodi mi facciano sposa sotto la bocca sporca l'abside di alba spina sotto la rovina bello bello fantastico e poi cosa c'è interessante per giorgio anelli per dire già simpatico però vira verso l'eruditismo verso l'eruditismo e da lì edoardo scipioni mi interessa non è virato cioè vira vira verso il metafisico ma metafisico a noi cinter ci piace il metafisico che sottrae la metafisica ovviamente ci interessa il metafisico spolpato vuoto vivo di metafisica cioè non il metafisico che studia metafisica all'università di filosofia insomma aggiungete un nome a caso quindi benissimo